Ok, è ricreazione, devo mangiare. Gli altri mangiano tranquillamente, perché io ho questo problema? No, non lo devo fare, non voglio altri commenti sul mio fisico, basta. Posso stare anche senza, non mi serve mangiare. Ma loro non ingrassano mai, io mi guardo allo specchio, mi vedo sempre più grosso. Oddio, mi hanno visto. No, ce la devo fare a mangiare, non voglio che mi chiedano niente. No, è così difficile, non ce la faccio. No, è così difficile, non ce la faccio. No, è così difficile, non ce la faccio. Grazie a tutti